ciao eccoci oggi voglio realizzare con te degli spaventosi biscotti di halloween con il personaggio di scream quindi avremo bisogno della pasta frolla dei nostri cutter in questo caso io per prima cosa prendo della farina e vado ad infarinare il mio biscotto il mio cutter in questo modo appoggio il timbro sulla pasta frolla il cutter faccio pressione e mi aiuto con un mattarello così adesso alzo il timbro elimino il cutter e la pasta frolla in eccesso ecco venuto il nostro biscotto ripongo il biscotto in frigorifero per almeno mezz'oretta 40 minuti in modo che la pasta frolla torni a essere dura nel frattempo accendo il forno statico a 165 gradi e una volta che il forno è arrivato in temperatura metterò il biscotto direttamente dal frigorifero al forno e lascerò cuocere per circa 18 minuti ovviamente ogni forno è diverso quindi fai delle prove con il tuo forno io ovviamente ne ho uno già pronto e questo è il risultato finale del nostro del nostro biscotto spero che il video ti sia stato utile ci vediamo al prossimo video